Dunque questo Vannino, crediamo che sia un giorno un po' particolare, sia per la profezia dei Maia, che io credo che sia più che altro una buttata commerciale, che alcuni la sfruttano furbescamente, poi anche il sostizio d'inverno, quindi dove la luce è uguale alla notte, per la Pistoiese com'è luce o notte questo campionato. Direi che vedere la classifica non sarebbe male, fra l'altro anche la migliore difesa di tutta la serie di Girone D, però non c'è da essere troppo soddisfatti perché i punti di distacco sono già otto, quindi l'obiettivo essendo solo la vittoria, c'è ancora da soffrire o c'è da sperare? No, c'è sicuramente da sperare, anzi c'è da augurarsi di lottare fino all'ultima giornata, come ha detto giustamente Gabbanini, l'allenatore, che crede fermamente in questa squadra. E qui vedevo un po' anche dai dati che mi sono un po' preparato, e ci sono anche critiche in questo senso, anche nei forum, d'altra parte la società non può fare altro che cercare di rinforzare la squadra, arriva Gucci, arriva Mussi, arriva Toledo, Davide Carnevale, Roberto Floriano, insomma è un via vai, questo vuol dire un po' non avere l'idea del tutto chiara, però definitiva. Ma sono partiti quattro mi sembra giocatori che purtroppo non hanno reso secondo le aspettative, soprattutto Lazzaro che veniva anche da campionati importanti, parlavo ieri con un signore di La Spezia che mi diceva la Spezia faceva, segnava ripetizione, purtroppo sai quando si arriva probabilmente a 35 anni, 34-35 anni, con un centravanti comincia a retrare. Però mi sembra siano stati presi dei giocatori perlomeno sulla carta interessanti, Mussi, Carnevale, questo Toledo, Floriano che non conosco, però mi sembra ci sia soprattutto uno spirito parlando appunto sia con il presidente ma soprattutto con l'allenatore, mi sembra molto più tranquillo in questo momento anche perché mi sembra di aver colto dalle sue parole anche la società, ha dato un messaggio importante alla tifoseria che sono tutti con l'allenatore, lottiamo fino in fondo, poi ci auguriamo di vincere ma poi se poi alla fine non arriverà, questo può essere perché a otto punti giustamente a giorni d'andata non è facile, bisogna che il Piacenza lo butti via a questo punto, non dobbiamo fare drammi, ma questo credo che sarebbe un po' il presupposto per cominciare a parlare seriamente di un programma, di una pianificazione che guardi un po' più in là della semplice annata. Ecco però non è nemmeno detto perché in definitiva questo distacco abbastanza consistente ma del tutto recuperabile è venuto fuori soltanto da un momento buio a cavallo fra la settima giornata e la decima dove sono stati fatti soltanto due punti su 15 insomma è stato lì, è quello il problema? No ma è sicuramente quello però mi sembra anche giusto e onesto nei confronti dei tifosi che mi auguro che siano molto più numerosi in futuro perché è facile criticare stando a casa, bisogna anche venire a sostenere la società e la squadra soprattutto, è giusto e onesto ripeto nei confronti dei tifosi dire che dobbiamo fare e faremo il massimo con grande serietà però poi bisogna anche, si vince uno, non è che vinciamo due, il campionato lo vince solo una squadra se saranno più bravi bisogna anche riconoscere il merito degli altri, è chiaro abbiamo lo scontro diretto purtroppo sarà a Piacenza ma come dicevi c'è ancora un'altra partita per il giorno d'andata e abbiamo tutto il giorno di ritorno per cui ci sono tutti i presupposti per farlo però se veramente come diceva una volta un grande presidente ci sono tutte le componenti intorno alla società perché se viene a mancare qualcosa in primis deve essere ovviamente la società ma poi ci vuole la stampa e i tifosi sono una delle componenti importanti. Ecco, hai ribadito un punto fondamentale, guarda hai visto che il giorno è del tutto particolare come si è detto, ti leggo, è un po' anche un po' spinta però ti leggo questa mail che io ho visto su un sito dedicato ai tifosi della Pistoiese proprio sul problema dei tifosi che vengono allo stadio e criticano subito questo signore dice io dico solo una cosa e poi mi richiedo nel senso che sto zitto sono stato e continuano ad essere molto critico verso la squadra che non è una corazzata e verso lo pseudo allenatore, vabbè questo è un suo parere ma se uno deve andare allo stadio e dopo tre minuti cominciare a fischiare e insultare può anche stare a casa dice ma a questi chi le ordina il dottore? vergogna, Orazio Ferrara e Baiocchi hanno fatto bene a incazzarsi, è una vergogna questo è l'unico stadio d'Italia dove dopo tre minuti si inizia a fischiare e vociare basta, state a casa, andate a fare delle gite, andate gigli, andate in culo ha detto questo finendo questo suo tanto francese quindi vedi si nota questo fatto che c'è qualcuno che ha pistola allo stadio dopo tre minuti no purtroppo sì ci sono e questo è sbagliato perché poi insomma appunto perché ci sono tanti giovani probabilmente la squadra non era e forse non è ancora una corazzata risente anche di queste influenze che a noi ci sembrano da poco perché magari uno si crede dalla tribuna e chi è in campo lo avverte questo clima ostile e dà fastidio secondo me anche a tifosi veri e soprattutto ai giocatori che sono in campo allenatore che è una brava persona, un buon tecnico però è giovane anche lui certamente ha bisogno dell'appoggio della società e anche dei tifosi è chiaro che le partite poi durano 90 minuti spesso anche 95 e non si può dopo tre minuti cominciare a contestare non siamo la Juventus neanche la Fiorentina né tanto meno il Milan siamo una squadra in serie D e dove dobbiamo renderci conto che siamo un D e ci sono delle squadre come quella di domenica con la quale abbiamo vinto però l'anno scorso ci avevamo pareggiato e mi sembra anche Persol a casa loro non è perché si chiama Pavullese è una squadra inesistente, c'è 11 giocatori anche di buona qualità noi siamo la Pistoiese ma non è che si vince solo con il nome ma si vince facendo gruppo come si vince anche nel lavoro si vince solo con il gruppo e con gli uomini motivati nella maniera giusta quindi allora si può concludere dicendo che le speranze ci sono ancora ora che è terminato un po' quest'albergo che si apre e si chiude si dovrebbe creare una unità di intenti con una squadra più o meno quella fissa e per tutto il giorno di ritorno i punti sono recuperabilissimi quindi si può fare auguri alla Pistoiese, a tutti i giocatori di buon Natale e di buon anno soprattutto con l'obiettivo di aver creato se non altro le basi sicure per un successo che speriamo sia il più prossimo possibile Sì sì, questo sottoscrivo al 100% ve lo dici, tanti auguri a tutti, di buon Natale, buone feste e salute soprattutto a tutti i Pistoiesi Grazie